Buongiorno, iniziamo a freddo così, eh? Allora, lasciatemi fare un'apertura che non è Piano Nazionale di Ripresa e Residenza, ma ripercorro un po' velocemente quello che è stata la programmazione europea 21-27. Novembre 22, approvazione della Commissione, a gennaio approviamo in giunta e poi in consiglio parte la programmazione 21-27. E quindi abbiamo fatto, anche quella volta, degli incontri su tutto il territorio per chiaramente dire, ascoltare consigli e suggerimenti per gli eventuali bandi che dovevano uscire. Allora, ritorniamo al motivo per il quale siamo qui oggi. Piano Nazionale di Ripresa e Residenza è nato nel 21. Abbiamo a disposizione come Regione Marche circa 4 miliardi, 452 milioni verranno gestiti da noi direttamente perché noi siamo soggetto attuatore e gli altri chiaramente è una questione tra gli enti locali, quindi comuni, unioni montane, province, ANAS, ferrovia e il potere centrale che è lo Stato con i ministeri. Cosa ha fatto lo Stato fin da subito? Ha creato un sistema informatico che è Regis e quindi dove è possibile. Però si stanno riscontrando delle lentezze, chiaramente molti comuni che hanno già fatto, chiaramente sono beneficiari di un finanziamento da parte dello Stato e quindi prima hanno fatto un bando per il progettista, poi il bando per l'appalto dei lavori, sono partiti i lavori, hanno chiaramente fatturato e hanno difficoltà nella rendicontazione e quindi ricordo che il termine ultimo sarà a metà 26 per lei, mi sembra, sì, a metà 26 e quindi i comuni bisogna che si affrettano perché metà 26 sembra tanto lontano ma non è così lontano. Cosa ha fatto inoltre lo Stato per ovviare a questo? Ha messo a disposizione il denominato mille esperti a livello nazionale, sapete bene che la nostra popolazione marchigiana ha di un milione e mezzo di abitanti su 60 milioni di abitanti della nazione, siamo circa il 2,5%, quindi abbiamo 32 persone a disposizione. Ecco, noi oltre a questo come Regione Marche abbiamo creato anche il portale Easy PNRR per facilitare, spiegare, tenere aggiornati su quello che era monitoraggio, rendicontazione e controllo. Ritorno ai 32, delle 32 figure professionali, 28 operano nelle SUAM, quindi come stazione unica appaltante, a livello centrale per tutti i comuni, per tutte le unioni montane e per le varie province. Noi abbiamo pensato con il sistema Moreco, che non è altro che l'acronimo di monitoraggio, rendicontazione e controllo, individuare quattro figure che possano essere ancora più vicine agli enti locali. Ecco perché abbiamo organizzato, oggi è la prima conferenza stampa generale, e poi io personalmente organizzerò come struttura, chiaramente, e come assessore alla programmazione, abbiamo già organizzato degli incontri che ve li posso anticipare. Iniziamo qui presente dal sindaco Fioravanti, il 23 ottobre ad Ascoli, nel pomeriggio andremo a Fermo, il 7 novembre ad Ancona, alla mattina il pomeriggio a Macerata, per terminare il 13 novembre nel comune di Pesaro. Ecco, sicuramente vogliamo dimostrare con questo una vicinanza sempre maggiore agli enti locali, perché non possiamo perdere questa importante opportunità, è una mole rilevante di danaro che abbiamo nella regione Marche, e in un momento di crisi così non possiamo permetterci di restituire un euro all'Europa, e lo ricordo che noi, nella programmazione 14-20, non abbiamo restituito un euro all'Unione. Grazie, Assessore. Noi come Anci Marche abbiamo chiesto una grande sinergia, e l'abbiamo ovviamente ricevuta con una grande collaborazione con la regione Marche. Questo atteggiamento secondo me è molto vincente, questa capacità di andare nei territori, perché è vero che l'Assessore è una regione di un milione e mezzo di abitanti, però da provincia a provincia, da comune a comune, abbiamo grandi differenze, e quindi abbiamo la capacità di attivare una politica diciamo più verticale e sartoriale, e quindi la possibilità di fare questi cinque incontri con la disponibilità dell'Assessore e dell'Assessorato, e ringrazio tutta la struttura, perché in realtà questo monitoraggio, questa rendicontazione permette ai comuni di avere un alleato, perché in realtà il problema non è dei comuni più grandi, ma soprattutto dei comuni più piccoli, perché a volte io girando con il Presidente Anci Marche, nei comuni piccolini vediamo il sindaco che scrive delle determini e poi deve andare anche a pulire strada, perché a volte non ha nemmeno gli operai. Quindi questa possibilità di avere una regione vicina con una struttura che permette di monitorare i vari procedimenti e soprattutto i vari cantieri e attivare un percorso di rendicontazione serve come supporto, ma serve anche come formazione, perché quei dipendenti hanno la capacità anche di interagire con esperti e funzionari della Regione. Quindi questa disponibilità, grazie alla Regione Marche, grazie al Governatore Acquaroli, grazie all'Assessore Brandoni, permetterà di velocizzare e permetterà anche di non perdere risorse nei vari interventi che abbiamo nei 225 comuni delle Marche. Quindi dalla prossima settimana ci saranno incontri nella provincia di Ascoli, di Fermo, di Macerata, di Pesaro e d'Ancona per poter, diciamo, anche avere l'opportunità di dialogare con le diverse esigenze dei vari comuni. Quindi grazie all'Assessore di Rega, anche grazie alla struttura regionale, perché grazie a questo diamo la possibilità anche di speranza nei comuni più piccoli, soprattutto nelle aree interne.